Radio Polo punto org vivi esplora esplora ascolta Buonasera ci siamo Radio Polo punto org calcisticamente parlando estate con quindici minuti di ritardo Ma un motivo valido c'è perché è arrivato il nostro ospite buonasera Angelo Buonasera a tutti buonasera Matteo buonasera a tutti allora scusate per il ritardo ma vengo proprio da Salerno quindi per forza di cose sono andato in ritardo Buonasera a tutti gli spettatori Buonasera ovviamente anche a Matteo Monetta e Angelo ti abbiamo aspettato speriamo che ci porti qualche notizia buona per la Cavese per Cava di Tirreno Ovviamente ne parleremo subito dopo aver introdotto un po' le notizie di oggi del calciomercato Fra due giorni c'è il calendario come ricordava Matteo un campionato forse più equilibrato come lo vedi caro Angelo quest'anno? Sicuramente un campionato molto equilibrato dato gli ultimi equilibri spostati dalla Juventus e tutto gira intorno alla Juventus in questo calciomercato Dalle eccezioni di Bonucci e dalle eccezioni inaspettate anche quelle di Dani Alves derivate anche dalle ultime mesi che hanno caratterizzato la gestione tecnica della squadra E prima di tutto Allegri come primo responsabile di una situazione che non ci saremmo mai aspettati Una cosa che peraltro rischia anche di, come ho detto prima, di rendere più equilibrato questo campionato Poi con Matteo abbiamo visto che da questo ne è originato alcuni movimenti dopo come quello di oggi Di cui quello più eclatante è quello di Bernadeschi Sì, Bernadeschi che è andato a rinforzare il reparto d'attacco della Juve che non è che era scarso diciamo Ma mette un qualcosa in più, un 10 in più visto che è il numero che avrà dietro le spalle Sei d'accordo con il numero 10 a Bernadeschi? Beh sì, è un ruolo questo importantissimo come trequartisto ma anche come un giocatore che da cui di tecnica ne dipenderà anche molto del gioco della Juventus Partiamo col presupposto dell'ultima partita giocata da Juventus ufficiale contro il Real Madrid L'ultimo modo è il 4-3-1 molto all'europea se vogliamo dirlo Con una caratteristica di giocare in contropiede ma anche difensiva per le qualità che ha notoriamente la squadra di Juventina Devo dire che quest'anno sentirà secondo me molto la mancanza di Bonucci Dato il suo carattere, la sua caratteristica quella di contenere con la giusta enfasi le spinte offensive avversarie Ma tu sei qui per un motivo proprio importante Vuoi parlarci della Cavese, delle ultime novità sulla Cavese? Sì Poi dopo parleremo ancora di calciomercato della Serie A Allora praticamente proprio adesso la notizia dell'ultima ora Che la Cavese ha formalizzato l'iscrizione al campionato 2017-2018 di Serie D L'iscrizione formalizzata dal segretario Pascarella Non Pascarelli come le notizie di Salerno AM Calcio Formalizzata a Roma presso la sede di Piazza Refe Aminio Una notizia che fino a 10-20 giorni fa poteva essere insperata Però ci siamo riusciti con una nuova società Questa volta cappeggiata da Antonio Fariello Che ritorna qui da tanti imprenditori cavesi Da Amico Virno C'è anche qualcuno che baglia dei cinema e poi ci sono tanti altri che daranno una forma di contributo di sponsor Diciamo nella vecchia maniera della Cavese che ci ha caratterizzato dagli avventi della Monica fino al fallimento del 2011 Diciamo l'anno prima del 2010 perché Fariello non è il presidente del campionato 2009-2010 Sì è che dalla stagione 2011-2012 la Cavese milita in Serie D È quasi ora che si rilanci verso nuovi traguardi ambiziosi Si spera Si spera dalle ultime dichiarazioni fatte sabato scorso Il presidente Fariello spingeva per un campionato dignitoso Ma con un contenimento dei costi di gestione entro l'anno e per gli anni a venire Soprattutto per un debito che si caratterizza sui 300.000 euro Naturalmente da questi vanno tolti i debiti di Campidello Che ha promesso che pagherà con uno sponsor di due anni Quindi andrà a coprire una cifra di 140.000 euro O anche di più perché dipende dal pagamento e quindi anche da altre cose Sì ricordiamo che la Cavese di Fariello e Soci vinse il campionato di C2 Poi la grande stagione della C1 purtroppo non risolta con il passaggio alla Serie B per poco Sì ricordiamo molto bene la società di Fariello, la società di Tella Monica, di D'Amico, di Virno La disgraziata semifinale con il Foggia Molto è stato detto su quella partita ma io dico meglio concettarsi sul presente Sul presente perché è molto importante Sappiamo benissimo che alcuni operatori già stanno operando nell'ambito della società Le ufficializzazioni saranno fatte entro domani al massimo mercoledì E si sta già lavorando per il ritiro Che da quello che mi è stato detto, da quello che magari sono i rumors della piazza Dovrebbe essere in Irpinia, Sturno, però si sta lavorando, non è proprio sicuro questa località Si vedrà nelle prossime ore Diciamo quando ci sarà anche una riunione dei soci tra stasera e domani Quindi vedremo in maniera più approfondita Angelo, dal tuo punto di vista che campionato potremmo aspettarci per la Cavese? Dal tuo punto di vista personale ovviamente Personalmente io non posso lavorare in meglio per la nostra squadra perché siamo tifosi tutti quanti In realtà dobbiamo essere molto realisti e dobbiamo dire che partiamo con molto ritardo quest'anno Rispetto agli altri due anni Partiamo praticamente all'inizio agosto Dobbiamo ancora, l'ho detto prima, procedere alla scelta del ritiro Alla scelta dell'allenatore, alla scelta del direttore sportivo Che comunque è stato già individuato Ma non possiamo dire il nome perché è giusto che la società prima faccia l'ufficializzazione Rumors dicono, ma sono solo rumors, che potrebbero ritornare a Cava Ciro Manzi e anche Claudio De Rosa Sì Claudio De Rosa, ecco Questo possiamo dirlo perché comunque Claudio De Rosa è stato visto insieme all'operatore di mercato che sta operando qui a Cava Insieme al Presidente Fariello E possiamo dire che la sua è quasi un'ufficializzazione così come quella di Ciro Manzi Che ricopera il ruolo di difensore centrale Volevo chiudere l'argomento cavese per parlare poi di calciomercato di A Della serie A con i tanti scambi Dicendo che alla Cavese nell'anno 2009-2010 esordì un calciatore molto importante che ora gioca nel Napoli Un certo Lorenzo Insigne Sì Ciò con poche partite Poche partite ma mi ricordo una in particolare, quella contro il Marcianise Mi ricordo del marzo del 2010 in casa Finì con una vittoria nostra per 1-0 Ma Insigne, giocando come esterno, mi impressionò moltissimo Dato la sua elevata tecnica e già dal suo tiro che insomma si faceva vedere Già quei primi colpi che era quasi Lo stava affinando Affinando perché con un tiro da fuori aria e formidabile Paticamente impressionava anche gli addetti ai lavori della Serie C E già l'aveva fatto con il direttore sportivo Paone Che lo prese in maniera molto intuitiva nel febbraio 2010 Angelo, allora facciamo i migliori in bocca al lupo per un grande campionato alla Cavese Che merita ovviamente scenari più importanti visto il passato di questa società Torniamo alla nostra amata Serie A Abbiamo detto che fra due giorni ci sono già i calendari Matteo ha citato già il Napoli a proposito di Insigne La settimana scorsa abbiamo avuto al telefono il professor Gravagnolo che era a Di Maro Ci ha raccontato un po' l'ambiente Perché la settimana scorsa c'era un po' ancora di dissidi Si percepiva tra il portiere Reina e il resto della società Che sembra oggi aver confermato Il Napoli però oltre al campionato c'ha anche questo preliminare di Champions League Secondo te anche per il Napoli l'altra campana Poi cercheremo di vedere anche un po' il Benevento Che campionato potrà aspettarsi anche il Napoli Visto che ha confermato tutti i big Mi sembra ovvio che debba puntare per un obiettivo di vertice In Serie A per lo scudetto Ieri sera Sadri ha buttato acqua sul fuoco Come al solito Come fa sempre lui Mi ha rubato le volate in bocca Perché stavo per dire all'intervista di Sadri Che come sempre Cambia un po' la piazza Da facile entusiasmo In effetti negli ultimi giorni c'era troppo entusiasmo di Maro Questo lo devo dire perché è sembrato subito una cosa irrealistica Quella di Come dire Farà crescere il sentiasmo anomalo Allora Adesso c'è da dire che La strategia della società è quella di far rimanere tutti Perché l'obiettivo è quello di costruire una squadra passo dopo passo Anno dopo anno Con una maggiore esperienza In questo l'affare di Reina In quel caso che è successo Ma questo non da adesso Ma da inizio maggio Ci deve far riflettere sul fatto che Una scelta va fatta su questo portiere Perché è chiaro che è un giocatore Un portiere che è stato nazionale spagnolo Lo è ancora Ma ancora nel senso che è terzo portiere Sì non è ancora Non è titolare ovviamente Non è titolare ma è terzo portiere Ora dobbiamo vedere Cosa Cosa giuntoli deciderà Del futuro Perché da questo dipenderà anche molto Il calcio mercato dell'anno prossimo E dei prossimi due anni Dato che le scelte Si fanno da qui A lungo termine Io posso dire che Per quanto riguarda Insigne Per quanto riguarda La squadra in generale Sono convinto Che sarà un altro grande anno E non posso altro che dire Che sì Ci sono avversari più forti Magari rispetto all'anno scorso Tipo in Milan Ma ci sono anche squadre Che si sono indebolite Fiorentina Atalanta Forse Certamente Quindi le famose piccole Sassuolo anche Con la vendita di De Frel Pellegrini Quindi le famose piccole Di cui il Napoli soffriva quest'anno Di cui ricordiamo anche Alcune sconfitte Un po' L'Atalanta Come lui Deba dare umiltà E far volare basso Stessa squadra E' necessario Secondo me E' stato necessario Bene allora Visto che Matteo Ha pronunciato il nome di Sarri Con l'amore Per il suo Napoli Passiamo da Sarri All'altro Confermatissimo Vincenzo Montella Al Milan Diciamo che quest'anno Non ha alibi Se fino all'anno scorso Il Milan Aveva una rosa Arrangiata Di parametri zero Ha rotto Questo scetticismo Dei cinesi Arrivano con prepotenza Sborsano miliardi Si parla addirittura Ancora dell'arrivo Di Kalinic Più Belotti O forse più Obama Young Una fantasquadra Più erano Il più ne metti Montella ci sta prendendo gusto Passiamo alle formalità Non aspettiamo altro Dopo che Secondo te Montella sarà Il condottiero giusto Per questa fantasquadra Possiamo chiamarla così E secondo te In che modo Potrà amalgamare Questa Questa Rosa così Fatta di Campioni Di questo livello Beh questo Penso sia normale Che un mister Come Montella Debba gestire Una squadra Nuova Per otto undicesimi Praticamente O anche Nove undicesimi Perché Diciamo Dai moduli che vediamo Da un po' Quello che vedo Sarà anche difficile Perché naturalmente C'è da imparare Un nuovo modulo Alla squadra Un nuovo modulo Perché Molti sono nuovi E certamente Non possono Avere imparato prima Devo dire che La fase di ritiro È importante Mai come questo periodo Il Mina si gioca Gran parte Delle sue fortune Di quest'anno Perché Ora Bonucci è entrato Nel ritiro Asiatico Negli ultimi giorni Sono ritornati Giusto l'altro Ieri 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 Mi sembra Possiamo dire Che Il ruolo di Montella Sarà quello di essere Penso Più amalgamo Un gestore di gruppo Un gestore di gruppo Ma deve essere Spinto il gruppo Non i singoli Perché è chiaro Che abbiamo Deve saper fare bene Le scelte Esatto Ma soprattutto Gestire la fase Offensiva Ora E Bacca Tieni Comunque una gestione Dal centrocampo In difesa Che è migliorata Perché avere Un giocatore terzino Come Conti Che è un nazionale Che spinge in avanti Che ti fa la fase Difensiva in maniera Anche Come dire Particolare Rispetto ad altri terzini Perché L'ho reputo perfetto In entrambi i ruoli Soprattutto nella fase Offensiva Come ho detto prima Perché Da Come ho visto In nazionale Può essere potenziato Ancora di più Ha enorme potenzialità Quindi Può fare veramente E sono stato Veramente impressionato Da questo giocatore Più degli altri Più di Cernanoglu O di altri Che sì Io vedo Conti Un giocatore Che anche In nazionale E con il Milan Se approccia Questo progetto In maniera giusta Possa veramente Diventare una cosa A lungo termine E con Una speranza Di diventare Il miglior terzino In Italia Ma anche Nel mondo E giovedì E subito Preliminare Di Europa League Con il Craiova Squadra rumena Allenata da Davis Mangia Ex tecnico Dell'Under 21 Eh beh Lo affronterà senza Senza Biglia e Bonucci Biglia e Bonucci E con una difficoltà Accennata Già Da due tre giorni Del fatto E comunque Questo Milan Ha bisogno di Ulteriori giorni Di preparazione Perché Naturalmente Affrontare un preliminare Europeo Adesso A fine luglio È totalmente diverso Sappiamo Che Nella Insomma Nella provvisorietà Del calciomercato E nel calcio estivo Ci possono essere Teletrappole Teletrappole Delle prestazioni Non molto Vabbè Trappola che non si augura Vincenzo Giaccoli Da tifoso del Milan Ovviamente Mi auguro Mi auguro Sì che Montella Possa fare bene Perché Mi piace tantissimo Ma da Montella Passiamo all'altro A un fan prodigio No Del Del Dei allenatori Che è il Di Francesco Che ha fatto tantissimo A Sassuolo Adesso c'è la prova Del nove No Bisogna vedere Se Di Francesco È un allenatore Che può essere Proiettato in grande Oppure Secondo me Ha tutte le capacità Per dimostrare Di essere un grande Allenatore Insomma Qualcosa si muove Anche nel mercato Della Roma Arriva a Kolarov Un ritorno Importante Bisogna vedere Un po' In che condizioni Sarà In condizioni fisiche Ma secondo te Di Francesco Potrà mostrare Di essere un grande Allenatore a Roma Sarà la prova giusta Una piazza difficile Roma Una piazza molto difficile Vincere a Roma Uno scudetto Che equivale A vincerne dieci Praticamente E questo lo diceva Capello Penso che sia Comprensibile il fatto Che dopo quest'anno Fatto con Spalletti Sarà difficile Rivedere il buon gioco Che Spalletti Ci ha abituato A vedere In una piazza come Roma Esclusivamente Perché me lo ricordo Anche con Spalletti Nella Dieci anni fa Con la Roma A fare esattamente Quello stesso tipo Di Francesco Ha ottime potenzialità Di gestirsela In maniera Perfetto In maniera migliore Questa squadra Certamente Tutto Girerà attorno Al ruolo Di Monci Che È Essenziale Per un progetto A lungo termine Non da Quest'anno Ma nei prossimi anni Lo dimostra Lo dimostra Un po' Il basso profilo Degli acquisti Che ha fatto A Roma Quest'anno O no Matteo Ma bisogna vedere Questi calciatori Che ha preso Moreno in difesa Serenderanno Kasdrop Gonalons Sì sono calciatori Di esperienza Ma bisogna vedere Come si adatteranno Al calcio italiano Se sapranno Imporsi subito Oppure avranno Delle difficoltà Beh Questa è La difficoltà Di approcciarsi In un campionato italiano Perché bisogna Costituire Salah Rudiger Paredes Paredes È una gestione Eccellente Più di quella di Salah E negli ultimi tempi Mi era parso Quasi Quasi normale Il fatto che la Roma Dovesse fare cassa Un po' Non per esigenze Di ricambio Tecnico Voluto da Monci Ma per esigenze economiche Per il finanziario Problemi che non ha solo la Roma Diciamo Ma Naingolano Non è ancora rinnovato Giusto? Sì No Non è ancora rinnovato C'è ancora questo Rebus Naingolano Mi sembra E chissà Se dopo Magari potrà seguire Spalletti all'Inter Si parlava insistentemente La settimana scorsa Poi Credo che Non si sia più parlato Di questa gestione Di Naingolano All'Inter Spalletti Ovviamente Uno che non ha Ha esperienza da vendere Angelo Però un Inter Che sembrava avere Una società più solida Di quella del Milan Invece Sembra un po' Più arretrata Anche se All'Inter Ha una squadra Comunque già Abbastanza completa Infatti Ha fatto un grandissimo acquisto Con Borca Valero Ma Chissà Se mancherà ancora qualcosa Spalletti E chiederà ancora qualcosa Per fare un campionato Sicuramente Che compete all'Inter Fra le primissime Sicuramente Beh L'acquisto di Borca Valero Ha dato una spinta Soprattutto per quanto riguarda Il centrocampo Che negli ultimi tempi Nell'ultimo anno Ha risentito un pochino Del Mancanza di gioco No? E anche Della Della Scassa Proposizione In attacco Offensiva Che soffriva Questa squadra Devo dire che La dinamicità di Borca Valero Può essere determinante Non so fino a quando Perché È chiaro che Ci vuole molta corsa Diciamo Diciamo Angelo Che è un ruolo Abbastanza spinoso All'Inter Perché quest'anno Avevano fior di giocatori Io ricordo Banega João Mario Non erano gli ultimi arrivati Però l'Inter Ha cambiato Tre giocatori Forse Tre allenatori Però forse Borca Valero Sarà la pedina giusta Secondo te Voglio fare una provocazione Questi calciatori Che vengono acquistati A poco Tipo Kolarov Borca Valero Possono essere a volte Delle cose negative Ma se riesce Anche delle cose positive Perché comunque Qualità Prezzo Non sempre È un'ottima cosa No Certamente Però devi Ricordiamo che l'anno scorso Anche Giaccherini Che lo prese il Napoli Pensavamo di aver fatto un affare Un affarone A quel prezzo Però poi si è visto Che le cose Non sono andate così Ma effettivamente no Ma dobbiamo anche Dire che Non è Non basta Il nome di grido O la qualità Questo sì In rapporto Alla convenienza Dell'affare Dobbiamo vedere Come ha fatto il Napoli Negli acquisti Di Avarà Di Zierischi Per il suo centrocampo L'elemento Che ti dà Prima di tutto La dinamicità E soprattutto Una buona integrazione Col gioco Sia Nel filtro Tra la difesa L'attacco Sia anche In materia offensiva Perché da quello Ne deriva Anche il fatto Che Come ne ha sofferto Quest'anno L'Inter Di una gestione Tipo di regista Che deve essere Quella più Come dire La più giusta possibile Lo dico Perché magari Questo sembrava Una cosa scontata In realtà A tre squadre Ci hanno lavorato E io Cito L'esempio del Napoli Perché penso Che per il lungo termine Napoli abbia già Individuato Quali possono essere Dei futuri Protagonisti Il centrocampo E io lo dico Perché Zierischi e De Varà Sono tra i migliori Giocatori Giovani Centrocampisti Che in Italia Si possono Sperando che De Laurentiis Non li dia via Io spero di no Però naturalmente Lo dico perché Mi ha entusiasmato Fin dall'inizio Questi acquisti Perché mi dava La speranza Che nei prossimi anni Il centrocampo E soprattutto E soprattutto La manovra Del regista Del gioco Potesse Essere fatta Da questi due Interpreti Che secondo me Sono anche In ambito europeo Possono avere Delle ottime potenzialità Angelo Prima di passare Alle due Che stanno Un po' Deludendo Come anticipava Già prima Matteo Come Fiorentina E Lazio Credo che Dobbiamo citare L'altra campana Che disputerà Il campionato Di Serie A Che Parliamo ovviamente Del Benevento Che noi Che abbiamo seguito Tantissimi campionati Della vecchia C1 Ricordiamo Che il Benevento Falliva Sempre L'obiettivo Di andare In Serie B Poi Nel giro di due anni Si è ritrovata Catapultata Addirittura In Serie A Con grandissimo Merito E il presidente Vigorito Sembra intenzionato A fare Delle Follie Ovviamente Rimanendo nell'ambito Del Benevento Calcio Il primo acquisto È stato proprio Il Cavesse Coda È stato proprio Il Cavesse Coda Secondo te sarà Anche per lui Potrebbe essere Il campionato Della consagrazione Perché uno come coda Merita la Serie A Secondo me Non solo consagrazione Ma Penso Il fatto Che debba Farsi ancora Di più Quell'ultima spiaggia Quest'anno Può essere Un'opportunità Per lui Un'opportunità Ulteriore Rispetto a quello Che ha avuto A Parma Massimo Coda Che ha giocato Con Cassano Con Cassano A Parma È un'ulteriore Opportunità Data A Massimo Coda Lui si è fatto Ben vedere Quest'anno In Serie B Ha avuto Il coraggio Di riprendersi Dall'infortunio Che l'ha Un po' Diciamo Messo in difficoltà A inizio anno Si è ripreso La Grande E ha avuto Il coraggio Di segnare Consistenti E si è posti In una piazza Come Salerno Che era un po' Scettica Molto scettica Molto scettica Mi ricordo Due anni fa Nel 15-16 Che Soprattutto Inizio anno Si partì Malissimo Con tante contestazioni Della curva Sud-Siberiano Si è passati A fine anno Con una salvezza Quasi isperata Della Serenitana E soprattutto Alla grande lode Dell'attaccante E si è passati All'anno scorso Dove dire C'è stato un anno Felice per lui C'è stato un anno Di tanta felicità Tanti gol E quindi Prospetto Per un attaccante Come lui Un altro anno Bellissimo In quello di Benevento Che è una piazza Che si merita Tutta Gli sforzi Sta facendo Il suo presidente Un presidente Che in Dieci anni E più Di calcio Ha avuto Tante sofferenti Tanti playoff Persi Dalla C2 Alla C1 Ma non perché Mancava una squadra La squadra L'ha sempre avuta Una grande squadra Fatta di Degli elementi Del momento Che andavano In quel campionato Servivano Eppure Nelle partite Quelle più Determinanti E soprattutto A Santa Colomba Adesso Ciro Vigorito Adesso Vigorito Come stadio Ha Perso Quelle partite Determinanti Per andare in Serie B Ricordo una finale Persa Col Crotone In casa Dove bastava un pareggio Nel 2009 Dove bastava un pareggio Però è stata una grande amarezza Per una squadra come Benevento Che quell'anno Ricordavo Che non aveva rivali All'inizio anno E finita con una rivelazione Per quel Crotone Che aveva in attacco Russo Aveva Verardi Giocatori che in quegli anni Erano di categoria Di Serie C Mentre Benevento Aveva giocatori come La Camera Che erano stati a Rimi In Serie B Sì erano Clemente Giambiero Clemente Bueno Erano giocatori che Perlomeno dovevano Come dire Rompere il campionato E farlo finire ben prima Ci fu in quel campionato Di Gallipoli Che si dimostrano Una squadra più concreta Gallipoli Che è stata anche Una nostra avversaria Che ora Non si sa È scomparsa come società No È un'eccellenza Il Gallipoli Diciamo che vive In una società Fatta di azioni Nato popolare Allora in bocca al lupo Ovviamente anche Al Benevento Per un buon campionato Di Serie A Anche perché poi Più anni resta in Serie A Più abbiamo la possibilità Di vedere delle partite Di un certo livello No Vicino a noi Concludo con il Benevento Con un ricambio Delle Delle metri di Serie B Ora c'è la notizia di Lopez Che sta via via Per il scindere Il contratto E ci saranno Due elementi Che verranno Di categoria Come Cataldi In prestito In prestito Mi è piaciuto Soprattutto nell'ultimo anno La formula dei prestiti Di Cragno E di altri giocatori Che hanno fatto la differenza Una cosa Molto sostenibile Perché Così i conti Non vanno in rosso Fin da subito E c'è un grande giocatore Viola A centro campo E anche Ciceretti Che forse potrebbe esplodere Ciceretti Penso che sarebbero La migliore plusvalenza Dell'era di Vigorito Sì staremo a vedere Però tornando Alla fascia Medio alta Della Serie A Parliamo di Lazio E di Fiorentina Forse le due Che stanno un po' Derudendo Però Se la Fiorentina Non è riuscita Nemmeno a trattenere Paolo Sosa Alla Lazio La Lazio Però è riuscita A tenere Secondo me Quello che Secondo me È stato il migliore Allenatore Della Serie A Dell'anno scorso Che è Simone Inzaghi Come ti spieghi Angelo Secondo te Che non abbia ricevuto Una chiamata Più importante Intendevi Simone Inzaghi Simone Inzaghi Che è a Roma E devo dire Che la scelta Che è stata fatta Poi dopo In seguito Alla scandalo Quasi Bielsa Gli ha Penso valso Questa fortuna Enorme In una piazza Che Ha operato molto bene L'anno scorso Devo dire Ora con Però la cessione Di Keita La futura cessione Di Keita Anzi adesso Quasi Dovrebbe andare via Keita Sì All'Inter Biglia Già è partito Le cose potrebbero cambiare Perché Milinkovic Savic Era nel mirino Della Juventus Si parla addirittura Della partenza Di Sakic Sì E questo potrebbe cambiare Quello che è stato Un buon carciomercato Quello dell'anno scorso Con Quello di quest'anno Che in realtà Può deludere le attese E mi dispiacerebbe Perché Le potenzialità Che ha Questa Questa squadra In termini Simone Inzaghi La gestita squadra Penso che sia Un peccato Lo so che dipende Da una persona Che è Lotito E Lotito Dovrebbe pensare Anche alla fortuna Della sua squadra Di avere Un allenatore Come lui Penso che Ci ragionerà Nel mese di agosto Con ulteriori acquisti Penso Per Un acquisto Più per L'anno prossimo I prossimi anni Che abbia Un buon potenziale Da vendere Mentre la Viola Se fino a qualche anno fa I della Valle Pensavano in grande Insomma Si ritrova anch'essa A vendere i pezzi Da 90 Ma cosa sta succedendo A queste squadre Medio-alte Anche se poi Questo poi Andrà Per livellare poi Il campionato In alto Perché poi C'è un Inter Un Milan Che ritornano Sulla scelta Ma io penso Che la Fiorentina Stia dando I suoi pezzi freggiati Quelli migliori Cioè Primo Quest'oggi Bernardeschi Può essere pure Chiesa Che magari Ha una trattativa Con Napoli Infatti Su questo Bisogna dire La verità Questa Fiorentina Può certamente Chiesa Chiesa Può essere l'ago Della bilancia Di questo mercato Su più fronti Ma devo dire Che Dalla fronte Società Le cose Non vanno Altrettanto bene Devo dire Che le contestazioni Che sono state fatte A Della Valle Per un certo verso All'inizio Sembravano ingenerose E in realtà Adesso Stiamo avendo La giustificazione Di alcune proteste Perché Una squadra smembrata Rischia Per tutto Ad agosto Di fare un mercato Che Non ricompensi Delle giuste guadagni Che ha fatto A Fiori In questo calciomercato E I sospetti Che hanno i tifosi Sul fatto che Magari Lo stesso Della Valle Voglia Andarsene via E non I tifosi stessi Che chiedono Della Valle Andarsene via Possono essere Delle Come dire Dei presentimenti Degli indizi Che possono Pesaggere Insomma Una Fiorentina Di basso profilo Quest'anno Cosa che non abbiamo visto Negli altri anni Dove Sono lontani i tempi Di Mutu Girardino Battistuta Battistuta Ma anche I tempi Dell'ultimo anno Degli ultimi due anni Mario Gomez La scommessa mancata Della Valle Un calciatore La Fiorentina Ci ha abituato Che non ha mai niente Sì Ci ha abituato Negli ultimi due tre anni A fare Mercati Mercati Di calciomercato Di basso profilo Ha sempre pensato Ai giovani Quasi tutte le volte Ci ha indovinato Quest'anno però Rischia Di fare Di fare un grosso sforzo Sul mercato Perché Perché ad agosto Sarà un mese determinante Quando hai nominato La probabile Cessione di chiesa Al Napoli Matteo Ha attivato Le antenne Da tifoso Napoletano Ovviamente Uno dei giovani Più promettenti Sicuramente Del palcoscenico Italiano In Europa E nel mondo Nel futuro Sicuramente Chiesa sarà Uno dei Grandi protagonisti Ma Forse È l'elemento Che non serve Al Napoli Forse Dico Perché sulla fascia C'ha già Numerosi calciatori Il Napoli Forse avrebbe bisogno Più di Un altro Centrocampista Centrale O difensore centrale E forse Qualche altro Esterno Di difesa Di un difensore centrale Certamente Ma Se vogliamo Di là Tutta Nei prossimi anni Quando ci saranno Alcune Per forse Il Napoli dovrà Capitalizzare Tutto quello che tiene Soprattutto sugli esterni Per non Fare cessioni A parametro zero O magari Cede di così A svenderli Reputo Questo Acquisto Di Chiesa Secondo me Necessario Non è vero Che magari Può risultare Uno spreco In questa squadra Un elemento Un doppione Io L'ho detto prima Riguardo Ai acquisti Dei centrocampisti Fatti Negli ultimi anni E Reputo Che Chiesa Va in questo fronte Va nella nuova Nella nuova Discorso futuro Del Napoli Quindi Pensiamo Una squadra Un po' più giovane Ma Con un enorme potenziale Non sottovalutiamolo Perché questo Ne va Dello stesso Le ambizioni Nei prossimi anni Non solo di quest'anno Perché quello Che devono fare I direttori sportivi Secondo me In generale E non pensare A un calciomercato Che ti soddisfa Quest'anno Tu devi operare Cessioni E acquisti Per i prossimi anni Ora Di là dei dubbi Che se ne possono fare Io valuto Comunque Necessario Un acquisto Di un difensore centrale E' chiaro Che Bisogna Modulare Tra i contratti Ed essere Più Come dire Più cinici Possibili Anche a valutare L'offerta Quella più Come dire Che può passare Un momento Un giovane E lo cogli Lo cogli E lo sai sfruttare Con i frutti Che ne dà Questo giocatore Come fece il Napoli Con l'Amsic Come fece il Milan Con Kakà Che non era Un campionissimo Quando lo prese Era diciamo Ancora una promessa Era forte Però non era ancora Quella gestione Del Milan Prese quel grandissimo Calciomercato E devo dire E devo dire una cosa Sul Napoli Sul mercato Degli ultimi dieci anni Del Napoli Penso che Il Napoli Possa dare Una spiegazione Perché Ha realizzato Così tante plus valenze In questi anni E le tabelle Vengono riportate E uno non può crederci Quando vede Tutti quei milioni Di plus valenze Ma è naturale pure Che veda anche Da questo progetto Quindi chiediamoci il perché Ai tifosi Dico Un acquisto Per quest'anno Può anche valere Sì magari Una Come dire Un valore aggiunto Per l'anno che viene Ma quello che deve venire Come attaccante giovane O magari come un elemento Giovane Che sia a centrocampo O in difesa È quello che va più Secondo una filosofia Che è quello che ha promosso Il Napoli Secondo una coerenza Dato Non Dai direttori sportivi Si sono alternati Tipo E parlerei Di Bigon Adesso I Giuntoli Io parlo Della strategia Di De Laurentiis Di De Laurentiis Soprattutto Perché questa Avviene tutto Da De Laurentiis Noi ce lo possiamo negare Dici benissimo Ma Volevo concludere La puntata Enzo Se ti fa piacere Con Un calciatore Che oggi ha deciso Di appendere Le scarpette Al chiodo Antonio Cassano Eh sì Sicuramente Cassano Croce delizia Del calcio italiano Più volte Denominato Un giocatore capace Di andare Al Real Madrid Di fare Trasferimenti Di fare anche Il verso Di fare il verso A capello Durante un allenamento Di attrarre Verso di sé Tutte le telecamere Tutti i media Ma poi Si è un po' perso Ha dato forse Un po' Il suo carattere Ma ha dato tanto Al calcio italiano Non so se è d'accordo Anche Angelo Sì Sì Sono molto d'accordo Ma Devo dire pure Che negli ultimi tempi La Anche la forma Fisica Del giocatore Ne sentiva parecchio Degli anni Di un anno e mezzo Degli anni In cui è stato fermo È stato fermo Anche all'inforo Degli allenamenti Della squadra Sampdoria Si allenava praticamente Con la primavera Addirittura Nell'ultimo anno Cercava di allenarsi A parte Senza L'aiuto della società E ha avuto In maniera Anche Impastanza evidente Un Un degrado Fisico Enorme L'abbiamo visto L'ho visto In qualche allenamento Del Verona E sembrava Soffrisse Soffrisse Di una Mancanza Di Di corsa Che gli mancava Evidentemente E anche il fatto Che magari Avesse perso Sette chili In un mese Probabilmente Non bastava A uno Sforzo Continuato Io spero Che continui In realtà Perché forse Non è ancora finita C'è qualche contatto Con qualche squadra Di Serie B Ha deciso No E' ultimissima notizia Che ha deciso Di smettere Con il calcio Definitivamente Almeno Come un letto Bene Gli ultimi giorni Sei giorni fa Ne ha detto Di tutti Aveva detto Di finire Adesso La smette Definitamente Magari Tra due mesi Doviamo inserire Il B Ha lasciato Un comunicato Dicendo Dei volersi Dedicare Alla famiglia Un gesto Direi Abbastanza Nobile Ha rifiutato I soldi Perché avrebbe avuto Sicuramente Aveva un contratto Di 500 mila euro All'anno Ecco Non li buttiamo Però lui Ha detto Di volersi dedicare Poteva farne a meno Diciamo No Devo dire Al di là Dei comunicati Che possono essere Definitivi o meno Ma io spero Che Che sì A mancanza della famiglia Può essere una motivazione Ma che ritrovi Prima o poi Una motivazione Anche per ritornare Perché io penso che Di di ce ne possono essere Di tutti i tempi Ma penso Un ripensamento Pure sia Altrettanto giustificabile Quindi aspettiamo Sì Secondo te Qual è stato il miglior Cassano Quello di Roma O quello Della Sampdoria Io penso Quello della Sampdoria Con una parte Anche con il Palma In cui ha dimostrato Ancora Di esserci È chiaro Che una Una piazza Come quella di Palma In cui Si era sull'orla Del fallimento E È stato difficile Per lui Anche negli ultimi tempi Giocare Però Il miglior Secondo me Cassano Lo ripeto ancora È stato quello Della Sampdoria Dove ha deliziato Tutti i tifosi genovesi E li ha Cassano Pazzini Cassano Pazzini È una coppia perfetta Si è complementato Alla Alla Perfezione Torsero uno scudetto Quasi sicuro Alla Roma Una 2 a 1 All'Olimpico All'Olimpico Io ricordo L'esplosione Diciamo Quando si scoprì Al mondo Cassano In un Bari Inter Che fece un gol Di tacco 2001 Nel 99 Dicembre 99 Che tutti Lo scoprirono Allora Davvero eccezionale Sì È un talento Che si è perso Un po' come Balotelli Magari Però devo dire Che lui Ha avuto anche La forza di riprendersi In qualche Istante Della sua carriera Mi dispiace Per come sia finita Però spero Tanto che La sua avventura Nel calcio Possa continuare Magari con un Alteriore ripensamento E magari sì Accettare anche La proposta Di una squadra Di categoria minore Perché comunque È vicino alla famiglia Noi siamo disponibili Qui a Cava Sì ma penso che A Cava siamo Di questi tempi Di questi tempi In cui abbiamo Una rosa Pari a zero Perché non ci sono Sarei facilizzazioni Penso che Abbiamo bisogno Anche di un singolo Calciatore Farebbe proprio Bene Angelo In chiusura Una risposta secca Quale sarà Il colpo In attacco Del Milan Il colpo Da 90 Almeno quello Promesso A chiare lettere Da Fassone Mirabelli Sicuramente Sicuramente Non per Fare ulteriori sforzi Sul calciomercato Magari Perdere tempo Ma al momento Abbiamo un affare Che si può fare Anche domani Che è quello di Karinic Che non deve Non deve Assolutamente Essere perso Perché È vero Magari Belotti Ha Un nome Ha una Valenza In attacco Che sicuramente È superiore Rispetto a quello Di Karinic Ma c'è davanti Anche uno scoglio Quello Contrattuale Che Miran adesso Non so se può Togliersi questo Russo Di bagare Sì Nella contropartita Ci sarebbe Niang Che piaceva Tanto a Mijajlovic Infatti Mijajlovic Era abbastanza Fissato 60 milioni Più Niang E paletta E paletta Un affarone Per il Milan Un affarrone Però c'è una Contingenza Immediata Che è quella Di Karinic E devo dire Che deve essere Sfruttata Immediatamente Quindi concludiamo Così Karinic È secondo me Per il momento Da acquisto Più conveniente E non ci dispiace Noi tifosi del Milan Sicuramente Nicola Karinic È uno dei grandi nomi Che potrebbe far comodo All'attacco Bene Angelo Ti ringraziamo Per essere stato Il nostro prezioso Ospite Buonasera Grazie a te Matteo Volevo concludere Dicendo Prego Tu nel prossimo anno Sarai di nuovo Sugli schermi di Quarta Rete Come ti abbiamo visto Quest'anno In questa stagione Calcistica Oppure Hai altri programmi No in realtà Il mio programma È che il 4 settembre Non volo per la Spagna Per Oviedo Sarò Farò un anno lì Di laurea binazionale Perché io sono Studente Della Università di Macerata E concluderò lì Secondo anno di laurea magistrale Quindi Non è detto pure Che possa continuare Con Quarta Rete Con una Spero Con una nuova programmazione E con nuovi progetti Vedremo Quest'anno Sarà un altro anno Vissuto A 100% In bocca al lupo Angelo Per la tua carriera Noi ci vediamo Per l'ultima puntata Di Calcisticamente Parlando D'estate lunedì prossimo Alle ore 18 Stesso sito Radiopolo.org Per commentare Il calendario Della Serie A Poi ci fermeremo Soltanto per qualche Settimana Per riprendere Il 20-21 agosto Adesso non ricordo bene Proprio per la prima Giornata di Serie A Team Buonasera a tutti